Ben tornati a un nuovo appuntamento di SOS Rezzotv, ciao Beppe, ciao Fabio, siamo tornati al ponte del Neschieto che è crollato quello famoso gioco. Siamo tornati al ponte del Neschieto, dove è il ponte qui? Il ponte non c'è. Non c'è il ponte? No, qui c'è una bella voragine e basta. Adesso c'è la voragine, l'ex ponte, è come me questo. Lui vuole parlare che lui è stato vice sindaco. Allora è crollato il ponte in quella famosa giornata di maltempo e la situazione è rimasta più o meno uguale con queste transennature e il comune tra l'altro nell'ultimo consiglio comunale c'è stata un'interrogazione di Alessandro Caneschi, consigliere comunale del Partito Democratico, che ha interrogato il vice sindaco Gamurrini dicendo cosa fa il comune per ricostruire questo ponte e lui dice la strada è privata, quindi il comune può solo partecipare al 50%, aspettiamo il progetto ancora dei cittadini, li abbiamo incontrati, ancora questo progetto non c'è stato portato. Il problema però è che forse i cittadini aspettano che magari il comune faccia un po' da tradunione. Forse sarebbe il caso, penso, perché che altrimenti sono i singoli cittadini che mi dicono che qui sono veramente tanti, a mettere tutti insieme diventa veramente un problema. Io penso che il comune invece di aspettare il progetto dai cittadini si dovrebbe fare internamente, visto che ci sono i tecnici per poterlo fare e poi chiamare i cittadini e ciascuno per il proprio interesse che ha in questa zona farlo con partecipare nella spesa. Penso che sarebbe l'unica soluzione ideale per poterlo fare. Diciamo al vice sindaco Gamurrini che se vuole risolvere il problema questa la strada, altrimenti se non la risolve, la strada non la rifà, il ponte non viene rifatto e la gente di Neschieto deve passare da altre strade, mi dicono, private e che gli fanno un piacere a farci di passare, perché altrimenti non avrebbe neanche la possibilità di andare a casa. Quindi penso che sarebbe il caso che il comune si muovesse. Anche perché mettere insieme circa 30-40 famiglie non è semplice. Se ci va il comune il discorso, se ci vai te, se ci vai un altro. Se il comune li convoca nelle segrete stanze su gli fa vedere già un progetto ben definito, gli dà una spesa di massima, penso che il problema si risolve. Altrimenti se no gli abitanti di Neschieto se lo scordano il ponte, per un pezzo. Però questa risposta di Camurrini sembra invece attendista dei cittadini. Sì, pensi che i cittadini di Arezzo e di tutta Italia quante tasse pagano per potersi mantenere un po' di servizi. Se poi una volta che viene fuori un problema il servizio non si ridà, mi sembra che siamo veramente fuori del mondo. Probabilmente non è neanche un discorso di costo, perché è diviso tra tutte le famiglie. Se ci fosse un progetto ben delineato, ben definito, il comune capofila che finanzia la metà, diviso 30-40 persone penso che non sia una grossa spesa per poterlo rifare. Anzi, poi magari viene fatto un ponte così, a norma, come si deve, questo magari è un po' più fatiscente e i cittadini hanno il servizio, penso che sono ben contenti di pagarselo, ciascuno per la quota, le loro aspettazioni. Fai anche qualche opera che mitighi, anche il rischio, perché può essere che piove forte qui? Qui bisogna intervenire l'alveo, poi quello non è facile, sono torrentacci che quando viene queste mega piogge d'estate diventano pericolosi. Quindi sì, magari il ponte logicamente sarà fatto, è un'arcata soltanto, sarà largo, però dopo, qui sarebbe tutto l'alveo un po' da rivedere. Perché adesso purtroppo quando piove, sai come piove e crea queste alluvioni improvvise che questi uomiciattoli non reggono e la portata è per cui trascimano. Vabbè, intanto rifacciamo il ponte, risolviamo quel problema lì. Iniziamo da quello. Va bene. Saremo a vedere e sentiremo anche noi il vice sindaco magari che cosa ha intenzione il comune di fare. E cosa da dirci. Cosa da dirci. A domani. Ciao.